Il popolo colorato dell'ottavo incontro mondiale delle famiglie ha salutato con entusiasmo il passaggio di Papa Francesco lungo il Benjamin Franklin Parkway di Filadelfia, quando il sole stava calando. La festa delle famiglie ha visto protagoniste sei famiglie di tutti i continenti che hanno dato testimonianza di una fede vissuta nel quotidiano. La figlia di Santa Gianna Beretta Molla e Malunela ha letto una lettera della madre al futuro marito Pietro. E dopo aver ascoltato la voce splendida di Rita Franklin, Papa Bergoglio ha lasciato il discorso scritto per una catechesi appassionata in spagnolo sulla famiglia. Più volte interrotto degli applausi, Francesco ha ringraziato i testimoni, esempio del fatto che la vita in famiglia vale la pena. Una società cresce forte, buona, bella e vera se viene edificata sulla famiglia. Un bambino mi ha chiesto, ha raccontato il Papa, cosa faceva Dio prima di creare il mondo. Dio amava, ho risposto, ma questo amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo era così grande e così dibordante che non poteva essere egoista. Doveva uscire da se stesso per amare fuori di sé. E così ha creato il mondo e la cosa più bella che ha creato è stata la famiglia, un uomo e una donna. Ha consegnato loro tutto, ha proseguito il Papa, ed una famiglia è veramente famiglia quando è capace di aprire le braccia e ricevere tutto quell'amore. Purtroppo quasi tutto quell'amore che Dio ci ha dato si è perso, con il primo crimine, il primo fratricidio e poi la guerra. L'amore, la bellezza e la verità di Dio e la distruzione della guerra. Tra queste due posizioni camminiamo noi oggi, ci tocca scegliere, ci tocca decidere la strada da fare. Quando l'uomo e la donna si allontanarono da Dio, Dio non li lasciò soli. Tanto era il suo amore che incominciò a camminare con l'umanità, incominciò a camminare con il suo popolo, fino al segno di amore più grande, suo figlio, che entrò nel mondo attraverso una famiglia e pote farlo perché quella famiglia era una famiglia che aveva il cuore aperto all'amore.